Buonasera, domenica 22 aprile 2018 siamo qui alla chiesa di Santa Mustiola della Rosa a Siena, in piazzetta Silvio Gigli, dove gli artisti della Rosa d'Oro dell'Arte di Firenze hanno in corso una mostra. Qui vicino a me abbiamo la dottoressa Patrizia Fortunato, che è il deus ex machina di tutti gli eventi che avvengono in questa meravigliosa chiesa barocca. Prego Patrizia. E buonasera, per me è la prima volta che parlo davanti a una telecamera, comunque volevo ringraziare la signora Lucetta Rissaliti e l'associazione anche per aver scelto la Sala Rosa come location per questa interessante e bellissima iniziativa, a nome anche della Sala Rosa e dell'Università. Grazie. Passiamo adesso nella Sala Rosa, qui nel retro della chiesa e andiamo a intervistare gli artisti. Grazie.